La parola a Don Vincenzo di Pilato, sacerdote diocesano pugliese. Don Vincenzo è professore di teologia e prassi del dialogo interreligioso presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano ed è anche coordinatore accademico del Centro di Alta Formazione Evangelii Gaudium di cui abbiamo proprio appena parlato e quindi potrà portarci in questa giornata, introdurci appunto come vedete alle mie spalle al tema e al diciamo a ciò che ci accompagnerà, cioè oggi guardiamo a Maria proprio come madre dell'umanità. Allora Don Vincenzo la parola a te. Grazie. E con saluto a tutti, con alcuni siamo già incontrati, incrociati e per me è una grande gioia essere qui con voi. Effettivamente doveste venire tutti sul palco per vedervi perché è davvero un colpo d'occhio straordinario. La Chiesa ha scelto Maria come modello di vita e di fede. E quanto troviamo nella Costituzione sulla Chiesa, l'Humengensium, che si chiude con un'invocazione fiduciosa a Maria. Mater Dei e Mater Ominum, ovvero madre di Dio e madre dell'umanità. In questa breve meditazione vi invito a non perdere mai di vista il nesso indicatoci dal concilio tra questi due titoli mariani, madre di Dio e madre dell'umanità. La ragione risiede nel mistero stesso di suo figlio Gesù, vero Dio e vero uomo. Sin dalle prime pagine dei Vangeli risulta evidente che la rivelazione cristiana è stata resa possibile grazie al libero coinvolgimento di Maria. Tentare quindi di parlare di lei, sottraendosi al fascio di luce che si diparte dal verbo incarnato, è cosa impensabile. Negli anni successivi al concilio e sulla scia di Sant'Ambrogio di Milano, Papa Paolo VI parlerà più volte del compito affidato a Maria nei confronti della Chiesa. Secondo lui Maria coopera alla nascita e allo sviluppo della vita di Dio nelle anime. Il verbo impiegato dal Papa, cooperare, connesso all'opera di santificazione dello Spirito, appare qui davvero intenso e ardito se teniamo conto del ruolo spesso marginale in cui le donne hanno purtroppo ricoperto e ricoprono ancora un ruolo marginale nelle grandi culture e religioni mondiali. Qualche anno più tardi nell'esortazione apostolica Marialis Cultus, Papa Montini illustrò in quale genere di cooperazione fosse coinvolta Maria. Lui diceva non è passiva, astratta, spiritualistica, tutt'altro. Ella sarebbe piuttosto l'artefice, sono parole sue, della città terrena e temporale. Continua, promotrice della giustizia che libera l'oppresso e della carità che soccorre il bisognoso. Soprattutto, egli concluse, ella è testimone operosa dell'amore che edifica Cristo nei cuori. Negli anni settanta del secolo scorso, periodo di fortissime tensioni sociali e politiche accompagnate anche da una spietata lotta armata, il Papa additava il Magnificat come l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato. E lei, Maria, che rivela il disegno trasformatore dell'economia cristiana, dice, il risultato storico e sociale che tuttora trae dal cristianesimo la sua origine e la sua forza. Questo magistero sociale postconciliare, disegno marcatamente mariano, riceverà ulteriori impulsi dalla testimonianza di Karol Wojtyla, proveniente da un paese, la Polonia, oppresso allora dal dominio sovietico. Nel riferimento esplicito a Maria, il suo stemma e il motto episcopali non lasciavano dubbi. Essi, pur richiamando un certo carattere pietistico e devozionale, per Giovanni Paolo II rappresentavano qualcosa di più. L'orientamento verso una tale devozione, raccontò negli anni 90, si è affermato in me nel periodo in cui, durante la Seconda Guerra Mondiale, lavoravo come operaio in fabbrica. In un primo tempo mi era sembrato di dovermi allontanare un po' dalla devozione mariana dell'infanzia, in favore del cristocentrismo. Grazie a San Luigi Grignon de Montfort, compresi che la vera devozione alla madre di Dio è invece proprio cristocentrica, anzi è profondissimamente radicata nel mistero trinitario di Dio. Ecco dunque le due chiavi di interpretazioni che vorrei offrire in questa breve meditazione per comprendere l'invocazione mariana, madre dell'umanità, che apre questo convegno ecclesiale, ovvero il suo radicamento trinitario e la sua dimensione costitutivamente sociale, direi laica, nel senso ampio e genuino del termine. Ora nel tempo a disposizione proverò a offrire alcuni spunti di meditazione che aiuteranno ad accogliere i frutti della vita della parola che condivideremo in questi giorni. Ecco allora il primo punto, la prima chiave di lettura di questo titolo mariano, Maria e la Trinità. Nell'annunciazione, giorno del suo sì a Dio, Maria diviene madre di Dio. Teotokos dichiarerà solennemente nel quinto secolo il concilio di Efeso. Il suo significato però non allude certo al fatto che in lei possa aver avuto origine la divinità eterna del figlio, questa sarebbe un'eresia. lei ha semplicemente reso praticabile l'ingresso definitivo di Dio nel mondo. Così facendo suo figlio Gesù ha potuto, dice il catechismo della Chiesa Cattolica, rivelarci in forma umana il mistero altissimo della Trinità di Dio. E non solo con le parole, bensì condividendo con noi gioie e speranze, tristezze e angosce, esprimendo sogni, desideri, restando ancorato alla sua nostra corporeità fatta di gesti di compassione e di silenzi, di sudore, di sguardi, di sofferenza fisica, morale e spirituale, di vicinanza. Il verbo di Dio dunque, come dice la scrittura, si è fatto carne ed è venuto a lavorare in mezzo a noi, con mani d'uomo, a pensare con mente d'uomo, ad agire con volontà d'uomo, ad amare con cuore di uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi, forché nel peccato, dice il concilio. Gaudium et spes. In breve, Dio in Gesù è giunto a oltrepassare se stesso, per giungere a toccare i limiti della nostra realtà umana, facendoli suoi. Per realizzare questo disegno di salvezza, un ruolo di primissimo piano, lo ha avuto Maria, che ha favorito, come un piano inclinato, la relazione tra noi e Dio e ci ha condotti a Lui. Se da una parte però non possiamo qui sottacere che lei sia stata investita da Dio di una missione unica e irripetibile, dall'altra è al contempo per noi un esempio da imitare e non solo da contemplare o invocare con le preghiere. Nella lettera enciclica Redentoris Mater, Giovanni Paolo II scriveva che la Chiesa, cito al numero 39, mantiene con la madre di Dio un legame che abbraccia nel mistero salvifico il passato, il presente, il futuro e la Venera come madre spirituale dell'umanità. Il riferimento diretto del Papa è al Vangelo secondo Giovanni, in cui Gesù dalla croce dice a Maria, donna, ecco tuo figlio, e al discepolo, ecco tua madre. Siamo qui posti di fronte a un momento di imprescrutabile oscuramento. Che cosa significano queste parole in riferimento alla sua maternità divina? A prima vista sembra che Gesù disconosca Maria come sua madre e le offra, per colmare il vuoto, un suo discepolo, uno di noi. Parrebbe qui palesarsi rispetto alle promesse dell'annunciazione uno scambio svantaggioso. Diremmo in perdita che non farebbe certo onore a Dio. Chissà se il dolore immenso di quel momento ha permesso a Maria di ricordare le parole di Gesù secondo cui chi perderà la propria vita per causa sua la troverà. Di certo sotto la croce non può essere avvenuta una sostituzione tra figli, perché nessuna madre la meriterebbe a sua insaputa. Ricordate il celebre episodio biblico relativo alle due madri giunte al cospetto di re Salomore Salomone per reclamare il proprio figlio. Di chi è figlio? Sembra porsi sul Calvario questa domanda. È figlio di Dio o è figlio di Maria, Gesù? Sul Calvario Maria però non rivendica nulla. Semplicemente, dice il Vangelo Stabat. Ella è lì solo per amore di suo figlio Gesù e Dio lo sa. Per questo motivo Gesù gli ha fatto il dono più grande che si possa ricevere. Qual è? L'ha posta nelle condizioni di poter partecipare al suo stesso zelo che gli bruciava dentro e lo consumava. Alla stessa passione per la Chiesa nascente, così piccola, così fragile, già divisa, prima ancora che morisse Gesù. Ecco il passaggio decisivo. Sotto la croce è accaduta una sostituzione di cuori e non di figli. Era necessario per Maria, come per ciascuno di noi, un cuore nuovo, frutto questa volta dell'azione dello Spirito effuso dalle piaghe del figlio crocifisso e abbandonato. Uno scambio, sì, dunque, ma di cuore. Un cuore al posto di un altro cuore. Cuore per cuore, immaginava Chiara. E scrive, ciò significa che il mio cuore deve vivere con una meticolosità estrema il perdere assoluto, per far spazio completo allo Spirito Santo, che solo può in me amare degnamente il cuore di Gesù. Dunque spostare tutto, perdere tutto, sempre, ed anche le cose più belle e più sante. E cosa c'è per Maria di più santo e grande di suo figlio? Analogamente potremmo chiederci anche noi qui, cosa c'è di più grande dell'aver visto un giorno, in definito giorno, la luce del carisma, dell'unità, apparire più bella delle altre cose belle, conosciute e di averla seguita. Per rispondere a queste domande dovremmo cogliere in profondità l'atteggiamento di Maria sotto la croce, il suo cosiddetto stabat. Saremmo così spinti a imitarla nell'arte, affatto in dolore, di saper rinunciare alle proprie idee, alle cose, alle persone di cui, in base alle nostre aspettative precomprensioni, ci siamo appropriati in nome di Dio, di Gesù, del Vangelo, della Chiesa, dell'Opera, di noi, degli altri, della realtà in generale, per aprirci al Dio vivo e vero, il Dio di Abramo, di Sacco e Giacobbe, e per permettergli di rivelarsi per quello che Egli è, ed Egli è più grande del nostro cuore. Papa Francesco, nella sua quarta enciclica di Lexit Nos, resa pubblica qualche giorno fa, il 24 ottobre, ha spiegato che la missione della Chiesa è irradiare l'amore del cuore di Cristo, che richiede missionari innamorati, che si lasciano ancora conquistare da Cristo e che non possono fare a meno di trasmettere questo amore che ha cambiato la loro vita. Dunque per essere una Chiesa in uscita missionaria occorre quindi essere, come Maria, una Chiesa innamorata, una Chiesa appassionata dell'umanità. La seconda chiave di lettura, come avevo preannunciato, è quello che riguarda la dimensione sociale mariana. La passione che Gesù ha partecipato a Maria ci porta a comprendere come lei, pur rimanendo madre di Dio, sia diventata anche madre della Chiesa e dell'umanità. Gli atti degli Apostoli ci mostrano infatti Maria al centro della Chiesa mentre si pone al servizio dei poveri, perseverando nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. La parola vissuta, l'amore ai fratelli, alle sorelle e l'Eucaristia rappresentano la via aperta dal risorto per accedere all'intimo di Dio, al seno del Padre, ci dice il prologo di San Giovanni, il Vangelo secondo Giovanni. È quello il luogo dove sin da principio si trova il figlio, però con una radicale novità. Nel seno del Padre vi è la sua umanità, che è la nostra umanità. Una verità questa che ogni anno proclamiamo nella liturgia il giorno della solennità dell'ascensione di Gesù, in cui è avvenuto un movimento verso l'alto e verso l'interno della creazione. Il movimento verso dentro, l'interiorità, lo ha ben descritto Sant'Agostino nelle sue confessioni. Dio in Gesù è diventato più intimo a noi di quanto non lo siamo a noi stessi. È straordinario. interior intimo meo, in latino, più intimo di quanto non lo sia io a me stesso. È il movimento verso dentro. L'ascensione è un movimento di Gesù verso dentro di noi, ma c'è un movimento verso l'alto. È il movimento ascensionale verso l'alto che riguarda la dislocazione della carne del figlio nel seno del Padre, carne offerta a Dio da Maria, fiore fiorito sull'albero dell'umanità. In virtù della Pasqua, lei e ciascuno di noi siamo così diventati più intimi a Dio di quanto non lo sia Dio a se stesso. Pertanto è lecito credere con chiara che chi colpisce l'uomo colpisce Dio, perciò fa un vero Deicidio e la guerra è un Deicidio. Noi siamo in Dio più intimi di Dio a se stesso perché siamo ognuno parola di Dio. Fine citazione di Chiara. Accettando sotto la croce il discepolo e in lui ciascuno, ciascuna di noi come figli, Maria non ha in alcun modo abbandonato Gesù. Lo ha invece riacquistato per così dire più grande, lo ha ritrovato Chiesa. Suo corpo, il figlio risorto di cui Maria è madre, ha dunque dimensioni cosmiche che vanno ben oltre i confini visibili della Chiesa. È così che lei è madre di tutti, dell'umanità, di persone credenti e non credenti, amici e nemici. Per questo imitando Maria entriamo anche noi nella logica paradossale del regno dove occorre continuamente saper perdere il Dio in sé per il Dio nei fratelli, ovvero Dio a nostra misura per Dio più grande a misura dell'altro da me. È questa la luce che ci ha tratti il giorno della nostra annunciazione. Tutti qui noi abbiamo ben presente quel giorno in cui abbiamo incontrato Dio e ci ha chiamati. Maria dunque continua dal cielo a prendersi cura del suo figlio che risorgendo si è unito a ogni uomo e donna della terra, di ieri, di oggi e di sempre. È Gesù dentro di noi e in mezzo a noi, quindi a continuare a lavorare, a camminare, a gioire, a soffrire nelle sue membra, ciascuna delle quali apporta nell'intimo di Dio, creativamente e originalmente, una fioritura di novità mai esistita prima, espressa attraverso carismi e ministeri diversi, al servizio dell'unità trinitaria che ci lega per grazia gli uni agli altri. L'importante per noi è non restare attaccati alle idee che ci siamo fatti su Dio, sugli altri e su noi stessi. Così pure non compiacersi neanche, e questo è più difficile, del bene che si è compiuto o abbiamo ricevuto. Ogni distacco infatti dal bene fatto sarà un nostro piccolo ma decisivo contributo a edificare una chiesa più umile, più mariana, dove regna chi serve. Ecco, in conclusione mi rivolgo con voi a Dio chiedendo per ciascuno di noi, ciascuna, in questi giorni, quanto Chiara scriveva già negli anni cinquanta del secolo scorso. Fa, o Signore, che il tocco della mia mano sia tuo, sol tuo l'accento della mia voce. In questo mio cencio, il tuo amore, ritorni nel mondo riarso, con l'acqua che sgorga abbondante dalla tua piaga, Signore. Rischiari, divina sapienza, l'oscura mestizia di tanti, di tutti. Maria vi risplenda.